su D'Arendei servito, marcato da Perasovic, grande palla roveciata per Ario Costa che trova il sesto ad un passo dal vittorio sul campo pressoché impossibile uno scavolini che comunque in Europa sta giocando sempre a molti sette minuti di partita D'Arendei su di lui da Toni Kukoc, è proprio da questo duello che verranno fuori le cose migliori e più significative sembra che si sia recuperato già domenica scorsa a Bologna e abbia dimostrato di essere in buone condizioni nel frattempo D'Arendei trova il suo sesto punto mentre più alto di tutti Grattoni che tocca il pallone per D'Arendei D'Arendei farà tutto da solo, D'Arendei al tiro girandosi una invenzione 5 a 45, seconda bomba per Perasovic, pallone a D'Arendei in cabina di regia sta trovando tutti uno contro uno, riesce però anche a trovare il canaglia, recupera la scavolini con Kukoc che apre benissimo per D'Arendei, D'Arendei su Kukoc, quasi sbaglia il tiro poi D'Arendei, Boni, Dei, su di lui Naglic, D'Arendei avrà l'uno contro uno fa tutto da solo D'Arendei, il cerbiatto di Desmoines va Boni, D'Arendei, 6 secondi, 5, ora di tirare D'Arendei al tiro dalla lunetta, segna, eccolo là, secondo i dettagli Darwin Cook per D'Arendei un pallone passato in mezzo a una serie di gambe per D'Arendei il 22esimo punto finalmente andare al di là di questo più 5 che abbiamo raggiunto 6-7 volte nel corso della partita D'Arendei, eccolo là, D'Arendei 24esimo punto non sembrava quasi vero andare al tiro senza marcatura pallone a Cook a Dei è libero Grattoni da questa parte Dei va però al tiro e segna 2.38 al termine Darwin Cook esce Grattoni da un blocco, riceve Ario Costa Ario Costa si gira al tiro sbaglia, rimbalto però di D'Arendei che segna e subisce il fallo D'Arendei su di lui Kukoc D'Arendei uno contro uno D'Arendei salta Cucco, c'è Realit il canestro che è il trentesimo punto di D'Arendei più semplice